Io voglio soltanto prima di chiudere questa fase, poi c'è il break e ci sentiamo dopo anche con Alessandro Meluzzi, con il professor Meluzzi, però volevo mostrare una cosa che abbiamo già mostrato qui, ma tanto per dare un esempio voglio un commento poi di un minuto di Alessandro. Allora, prendiamo lo stesso giornale, La Repubblica, leggiamo La Repubblica, Covid all'aperto, è quasi impossibile il contagio anche se l'aria è inquinata, questo che vedete è un articolo che è uscito sulla Repubblica, va bene? Che cosa dice? È un'ovvietà, ma scusate, è un'ovvietà, come facciamo a celebrare un'ovvietà, scusate? No, però quello che voglio dire è che su uno dei giornali principali mainstream italiani appare un articolo di uno studio importantissimo, ok? E poi il giorno dopo esce fuori invece un'altra cosa, cioè potete, ci sarà il lockdown, potete andare a passeggiare nel parco, vediamo se la regia ha il video, eccolo qua. Sport al parco sì, ma solo vicino casa. Quello è il parco dell'appia antica, sì. Cioè, ma io dicono, ma che razza di notizie sono? Allora, tu il giorno prima... Ma questo non c'entra col virus, amico mio, non c'entra col virus. Non c'entra nulla, nulla. C'entra con un modello di potere. C'entra con un modello di potere. Ma che cazzo rola c'entra? Ma spiegatemi che c'entra col virus. Tu il giorno prima pubblichi un articolo a piena pagina di una ricerca autorevolissima, che dice che è impossibile contagiarsi all'aperto, oggi tu, all'aperto, mi imponi la mascherina che è una cosa che non si può sentire. Ma perché è stato detto dagli stessi virologi che ha una funzione pedagogica, ha una funzione psicologica. Certo. La mascherina, vedete, negli spazi aperti, ha una funzione solo psicologica. Capite? È un instrumentum regni. Sì, 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 è solo per governare, punto. Certo. Tu prima mi pubblichi un articolo che dice che non ti puoi contagiare, l'hai scritto te. Vabbè, ma non è il governo. L'hai scritto te. No, ma aspetta, ho capito, ma un giornale con i giornalisti dalla schiena dritta. Il giorno dopo, se il governo mi dice, guarda che puoi andare a passeggiare nel parco, ma solo se ce l'hai vicino a casa. Quindi voi poveri disgraziati che non hanno un parco vicino a casa, se ce l'hanno a due chilometri di distanza, non ci possono andare. Quello che c'è a culo, che c'ha la casa davanti, può andare a passeggiare nel parco, secondo questi criminali. Ma e il giornale cosa fa? Quello che il giorno prima aveva pubblicato, che tutto questo è una minchiata colossale, tasce. Scusami, Alessandro, 30 secondi di commento, poi andiamo in break. Perché io sono veramente folle. Sono pazzo. Bisogna distinguere le cose mediche e le cose scientifiche dalle cose legate a un modello di potere. Questo è il problema. Oramai, come dire, le libertà fondamentali sono conculcate nella testa della gente. Capite? Si vedono delle povere persone, due anziani, un anziano in una macchina che guida da solo con la mascherina. E crede che questo sia una cosa utile per lui o per l'umanità. Ormai siamo di fronte ad una visita di indementimento, ma che è funzionale a qualche cosa. Credetemi, non si tornerà mai più sani di mente come prima. Questo è il vero problema. E quindi questo gregge ormai è totalmente governato e sarà governabilissimo. E questa storia, state pulcetti, che non finirà. Perché le elite che governano il pianeta hanno bisogno di un'umanità indementita di questo tipo. Ma guardi, professore, noi ci fermiamo adesso un attimo. Io non è che contravvengo, ma ritengo che il popolo gregge lo sia sempre stato, dai tempi di Giulio Cesare. Quindi non credo che ci sia bisogno di fare tutta questa pandemia, di questa frutte storia. Cioè Francesco dice, facciamolo così ce li leviamo dalle palle. No, Francesco dice, facciamolo così ce li leviamo dalle palle. E questa è la tua teoria. Rispetto al vaccino, sì. E' una teoria ottimista, perché non ce li leveremo dalle palle. Ecco questo.